Salve ragazzi e benvenuti in Rave Game. Con questo piccolo vlog vi spiegherò la situazione del canale, cioè il motivo per cui non abbiamo caricato video in queste settimane e i miei progetti futuri su questo canale. Purtroppo in questo periodo non possiamo caricare video perché il mio collega Gianni è impegnato con gli esami dell'università e quindi può dedicarsi al canale e io non ho una connessione a DSL e quindi non posso caricare video. Come vedete io mi collego usando questa che come penso tutti gli utilizzatori di chiavette sapranno non conviene caricare video, specialmente i video con cui noi lavoriamo che sono in alta definizione e quindi molto pesanti e rietrano molto tempo perché ne abbiamo davvero tanti da montare e pubblicare. La seconda cosa per cui ho deciso di fare per questo vlog è i miei progetti per quanto riguarda il canale. Quindi ci saranno due novità in questo canale. Prima sarà dei vlog dove io parlerò della mia esperienza con un certo videogioco dove vi spiegherò secondo il mio parere i pregi e i difetti che ha e alla fine darò anche una mia personale votazione a questo gioco. E se secondo il mio parere conviene l'acquisto o meno. Ovviamente in questi video non parlerò solo dei giochi da poco usciti ma anche di giochi precedentemente usciti per la Xbox 60 che poca parola è l'unica console che ho e forse anche qualche gioco PSP se riesco a trovare un modo per registrarli in alta qualità. La seconda novità di questo canale saranno delle top ma non le classiche top 10 quindi classifiche dove io vi mostrerò i miei giochi preferiti di ogni console. Con questo per ora non ci sono altre novità. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se vi è piaciuto e di mettere mi piace sulla pagina Facebook Rave Community gestita da me Gianni Russo e Andrea Sitt di RaveTube. Vi ricordo anche di iscrivervi alla sua pagina e di seguire pure lui. Con questo vi saluto. Ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!